Siamo a Tipoldo, subito sopra Mili San Pietro. Qui vediamo l'origine di un annoso problema del villaggio e cioè lo scivolamento a valle di detriti in grande quantità ogni qual volta ci sono degli acquazzoni o delle piogge un po' più forti del normale. Il problema ha origine proprio in quest'area perché, come si può facilmente vedere, le strade sono state pavimentate lasciando una pendenza accentuata verso questo vallone e quindi l'acqua che viene da Monte o anche dal centro del villaggio di Tipoldo va a gettarsi all'interno di questo vallone che poi con un fortissimo dislivello arriva a un centinaio di metri d'altezza più giù e quindi in corrispondenza di Mili San Pietro dove trascina con sé numerosi quantitativi di detriti. Con l'ultimo evento chi è intervenuto per pulire le griglie di via vallone che erano piene di detriti li ha semplicemente rimossi e messi a fianco e questo crea un'altra situazione di pericolo perché basta un altro minimo acquazzone e questi detriti vanno nuovamente a valle, cioè nel centro del villaggio creando situazioni di grave pericolo. Uno dei problemi che noi abbiamo qui a Messina è proprio la reggimentazione delle acque in pratica che cosa è accaduto? Che si fanno le strade, si fanno nuove costruzioni ma non si fanno la reggimentazione delle acque piovane questo nella nostra città dove le colline sono a strapiombo, dove ci sono tutti questi problemi diventa molto pericoloso il problema che abbiamo avuto a Giampilieri ne è una prova qui siamo a Tipoldo un torrente è un ruscellino in pratica diventa torrente quando piove diventa una cascata quando c'è quel maltempo terribile e che crea tante tante difficoltà tutti i terrazzamenti fatti con le armacere fatti tutti in pietre erano fatte da persone veramente dei maestri scaricavano l'acqua e diciamo c'erano ancora allora maltempo e succedevano cose brutte succedevano alluvioni però negli ultimi tempi si sono accentuate vuoi che sia il medio che è cambiato e anche questo purtroppo la nostra preghiera come comitato ci rivolgiamo chiaramente alle istituzioni di porre fine a queste 40 anni che non si è più fatto niente e di fare in maniera per il futuro che sia ben sistemato e che non si rischi la vita noi chiediamo che venga espletata quella delibera che ha emanato la prima circoscrizione cercando di convogliare tutte le acque dall'inizio dalle parti più alti per non creare altri problemi nel villaggio di Mili San Pietro quindi cominciando proprio da Tipoldo per cercare di pulire i torrenti, le condotte che ci sono a monte